Ciao a tutti, oggi prepareremo il succo ace. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, carote a pezzi, limone pelato al vivo a pezzi, arancia pelata a vivo a pezzi e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo le carote, il limone e le arance. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale con la spadola. Chiudiamo nuovamente con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 50 secondi da velocità 7 a velocità 10. iniziamo sul fondo del boccale con la spadola. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Filtriamo con un colino a maglie strette. succo ace. Grazie e alla prossima ricetta! succo ace. Grazie a tutti!